Ancora degrado in zona porto a causa della spazzatura. Come ogni lunedì mattina Torre del Greco è invasa ad accumuli di rifiuti non raccolti. La situazione si aggrava principalmente nelle aree periferiche della città. Né un esempio la zona compresa fra il porto e Corso Garibaldi. Soprattutto le traverse sono invase da discarichi a cielo aperto. Molti dei sacchetti contengono rifiuti organici che col sole ed il calore di questi giorni rilasciano esalazioni e male odori che si percepiscono anche a decine di metri di distanza. Considerando le tante abitazioni che affacciano proprio su questi cumuli la situazione è drammatica. Non mancano i soliti ingombranti come pezzi di mobiglio che fanno capolino fra le montagne di sacchetti. Come al solito la causa è principalmente l'inciviltà di tanti cittadini che non rispettano giorni orari di conferimento e quindi i rifiuti abusivi non vengono raccolti. Tuttavia data la situazione è necessario comunque predisporre un servizio emergenziale che possa provvedere laddove il buonsenso della gente venga meno per evitare che il degrado di laghi per le strade.